Non è un lavoro. Ma certo, tu intendi uno dei tanti lavori convenzionali. Andare ogni giorno in fabbrica o in ufficio per affermare che produco, che faccio parte anche io, della grande macchina che muove il mondo. Uno come tanti altri, confuso tra milioni di persone, senza avere un carattere, una personalità. Questa oscura è a vita meta che ciascuno di noi vorrebbe avere, raggiungere, toccare se possibile. Tutti la invochiamo e spesso danno di qualcuno. Dimmi, chi è veramente felice? Conosci qualcuno, forse? È vero, amo l'impressionismo, ma non seguo una regola precisa quando dipingo. Dipende soprattutto dal mio... umore. Alla base di ciò che faccio c'è sempre calore, energia. Ecco, vorrei dipingere uomini e donne con quel qualcosa di eterno, un tempo rappresentato da una oreola e che noi cerchiamo di rendere, di immaginare con l'irraggiare del colore. Lavoro giorno e notte, senza soste, rinuncio a tutto, a tutto. Ma per cosa? Cosa? Già fai presto tu! Basta allargare le gambe ed entrano tutti i soldi del mondo. Ci si offre al migliore offerente ed è fatta! Voi avete sempre la carta vincente!